Un allarme ingiustificato quello sullo smog a Salerno per luci d'artista a fronte dei dati della rete ufficiale di monitoraggio dell'ARPAC. A dirlo l'assessore all'ambiente del comune capologo calabrese, seppur non adeguato agli scopi con una sola centralina funzionante, infatti il sistema dell'Agenzia regionale per l'ambiente ha evidenziato con la postazione di via Vernieri, tra l'altro troppo vicino alla strada, un metro contro i 50 previsti per legge 30 giorni di superamento di particelle inquinanti contro i 35 della soglia limite della normativa. Peggio infatti ha ricordato Calabresi è andato a Benevento, 60, ma anche a San Felice a Cancello, Avellino o altri centri dove non ci sono le luci d'artista. Oggi chi solleva questioni relative alla qualità dell'aria procurando tra l'altro anche allarme nella nostra comunità lo fa a mio avviso in modo ingiustificato. Premetto naturalmente che ogni attività umana è inquinante, però se noi andiamo a raffrontare i dati e tra l'altro dati forniti da una rete di monitoraggio che è vetussa perché noi oggi abbiamo su Salerno un'unica centralina funzionante che è quella denominata Ospedale via Vernieri che come ho detto in precedenza anche è forse più donna per le revisioni delle automobili, per come è posizionata e non per il monitoraggio della qualità dell'aria, tant'è vero che con l'ARPAC abbiamo concordato già da tempo l'ubicazione per una nuova centralina da posizionare all'interno del parco del mercatello perché la normativa prevede anche una distanza dagli assi viari di almeno 50 cm, cosa che non c'è per la centralina di via Vernieri perché chi conosce il sito la centralina è posta praticamente a circa un metro dalla carreggiata e perciò dicevo poc'anzi forse è più idonea per le revisioni degli automobili e non per il monitoraggio della qualità dell'aria.